Purtroppo questo virus ci ha abituato anche a dover mettere in piedi procedure che per quanto si sforzi tutti di attuare poi a volte si dimostrano non sufficienti ad eliminare al 100% i rischi. Fidiamo comunque che tutti loro stiano bene, che superino questo momento che poi è la cosa più importante di tutto. Nonostante le rigide regole per l'accesso alle RSA e tutte le misure di sicurezza messe in atto il coronavirus è riuscito ad insinuarsi in un'altra casa di riposo per anziani in provincia di Arezzo. Si tratta della struttura sociosanitaria San Carlo Borromeo nel comune di Prato Vecchio Stia dove sono risultati positivi al virus 20 ospiti. Il primo giorno infatti avevo già fatto la segnalazione, erano già un certo numero, erano già 9 e poi a un secondo giro di tamponi ne sono usciti altri 11 e di conseguenza attualmente il totale di ospiti positivi all'interno dell'RSA è di circa 20. Più o meno, tra non autosufficienti e sufficienti, stiamo parlando circa della metà degli ospiti che sono all'interno della struttura. Per gli anziani positivi è stato già disposto il trasferimento verso altre strutture specializzate Covid che avverrà nel più breve tempo possibile. Verrà effettuato il trasferimento verso l'RSA Covid di Arezzo per cui chiaramente con l'arrivo, oltre ai primi 9 degli altri 11, la cosa si è resa più complessa anche a livello proprio meramente di trasporto anche perché sono persone estremamente fragili e in più appunto essendo a questo punto soggetti Covid ovviamente con tutte le cautele e le procedure del caso. L'appello del primo cittadino dunque ancora una volta è quello di non abbassare la guardia. Io faccio questo appello ormai tutti i giorni come tutti gli altri sindaci, ci sforziamo veramente di chiedere a tutti di continuare a rispettare le norme e ad essere ancora più prudenti.